benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa e vangelo scusate il ritardo scusate i capelli come sempre insomma eccoci qua oggi con maglietta blu perché il cielo è sempre più blu blu popolo della famiglia come dico anche in una foto che ho pubblicato proprio per annunciare la puntata di oggi scusate il ritardo ma vi scrivete il 55 quindi per dare la risposta a tutti i quesiti alla fine si fa tardi nella diretta giovanni marco tuglio pdf abruzzo angela ciconte pdf calabria meri rossi pdf padova giovanni fiori pdf roma saluto tutti alessandra tumilo alex dino finori altonella bagno nicola di matteo il nostro coordinatore nazionale vi chiedo immediatamente di far conoscere la diretta in corso a tutti i vostri amici quindi subito mi piace per favore subito la condivisione della diretta sui profili di tutti coloro che sono in questo momento in connessione e fate anche l'invito diretto ai vostri amici a partecipare alla diretta di oggi perché è una diretta dove diremo delle cose abbastanza importanti per l'attività del popolo della famiglia nei prossimi giorni oggi è primo febbraio domani comincia ufficialmente la campagna elettorale che come sapete va dal 2 di febbraio al 2 di marzo giorno di chiusura della campagna elettorale il 4 marzo si vota mentre il 3 sarà il giorno di silenzio elettorale vuol dire che mancano 30 giorni al voto oggi mancano 30 giorni al voto fate il conto sono pochissimi voleranno saranno faticosi ma voleranno vuol dire che tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare adesso o mai più quindi salutando anche marco pennetti pdf umbe alessandra mondelli pdf novara tutti gli amici chi dice il video non si vede deve far ripartire date le indicazioni c'è sicuramente la militanza digitale guido mastro buono che può darvi indicazioni se avete una difficoltà a me quello che risulta è che il video sia fluido e fruibile per tutti credo che potrete darmi conferma di questo credo saluto anche il pdf di napoli adriana di donato flaminia longobardi maria marrosu alessandra tumino conferma che il video si vede allora per farlo vedere in realtà a più persone possibili 22.000 persone le prime due puntate di stampa evangelo amici miei 22.000 persone siate orgogliosi vuol dire che sto popolo sta crescendo e come se sta crescendo per farlo però vedere a più persone possibili serve la vostra condivisione dovete fare la condivisione sul vostro profilo perché questo aiuta ovviamente a far seguire la puntata a quelli che sono le persone che seguono le vostre pagine quindi un mi piace mi raccomando alla diretta attualmente un like alla diretta questo salva gli algoritmi dagli attacchi degli haters avete visto da un po di tempo riusciamo a non essere bloccati questo lo devo a voi lo devo al fatto ai vostri mi piace a questa diretta perché con questi numeri i nostri avversari devono mettere in campo numeri altrettanto forti ma cominciamo a essere fortissimi noi quindi i like alla diretta le condivisioni servono anche a proteggere dagli haters alberto agus alle 18 fa coordinamento regionale in sardegna forza e buon lavoro saluto danilo leonardi impegnato tra l'altro in questa discussione con tal francesco palumbo io non conosco ma che ha scritto roba un po incredibili e io ho provato a difendermi dicendo guarda che insomma quello che è accaduto in quella specifica occasione grave sono stati immediatamente bannato quindi attenzione a queste trappole online di quelli che vogliono dare le loro lezioncine sul popolo della famiglia o magari sul sottoscritto in realtà di solito sono trappole costruite apposta per far saltare i nervi ai nostri quando arrivo io con un po di calma a spiegare quello che succede mi bannano e allora lì vuol dire con grande chiarezza che c'è semplicemente in azione una cellula anti pdfina che magari si trasforma e fa finta di essere uno che avrebbe votato pdf se non ecco quando cominciano con quella frase avete capito che con tutta probabilità c'è semplicemente un fake mandato a fare azione di disturbo contro il popolo della famiglia infatti quando arrivo io con le motivazioni ragionevoli che cerco di portare mi bannano e questo è un po un grande classico un saluto a don francesco colamonaco e particolare a tutti i sacerdoti religiosi e religiose che sostengono il popolo della famiglia alex zino finori spiega a chi trovasse difficoltà che la diretta è fluida ma se avete problemi uscite rientrate se siete invece su un pc fate f5 per rientrare e vedere bene come al solito l'ispirazione principale arriva sempre dal vangelo ragazzi il vangelo in questi giorni sembra essere proprio fonte di ispirazione quotidiana per la nostra azione leggetevi che vangelo c'è oggi anzi leggiamolo insieme siamo sempre in questo meraviglioso vangelo di marco fatemi salutare anche manila mattei oltre che federico pieroni e gabbiele marconi guardate questo fragoroso vangelo di marco io lo ripeto andate a raccontare a a chi non crede anche o ai nostri amici cattolici piuttosto tiepiti che il vangelo non leggono mai quanta è bella la la lettura degli 80 minuti del vangelo di marco che in 16 capitoli istantaneamente ti inseriscono in un mondo dove ti cambia la vita il mondo del vangelo allora oggi poiché il vangelo di marco in questi giorni sembra essere liturgicamente piazzato quotidianamente a dare ispirazione alla nostra azione andiamo a leggere insieme davvero condividete tutti la diretta fate invito agli amici di venire a seguire la diretta perché questa pagina di vangelo questi sette versetti che vi leggerò ora sono ancora una volta adeguati e fondamentali per il lavoro che stiamo compiendo ripeto siamo il vangelo di marco il capitolo del sesto i versetti sono quelli che vanno dal 7 al 13 in quel tempo gesù chiamò i dodici ed incominciò a mandarli a due a due diete loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio né pane né bisaccia né denaro nella borsa ma calzati soli sandali non indossassero due tuniche diceva loro entrati in una casa rimanetevi fino a che ven andiate da quel luogo se in qualche luogo non vi riceveranno non vi ascolteranno andandovene scuotete la polvere dai sotto ai vostri piedi e testimoniano a testimonianza per loro e partiti pedicavano che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano di olio molti infermi e li guarivano che pagina eh che pagina meravigliosa allora andate due a due non portatevi nulla per il viaggio né pane né bisaccia né denaro nella borsa ma siamo non siamo cristiani fino in fondo denaro nella borsa zero e quello che abbiamo anche sempre detto la campagna elettorale del popolo della famiglia è una campagna fatta di relazioni umane non serve dare un bigliettino volante un volantino volante a un passante senza neanche dirgli una parola si butta quella roba lì è buttata via noi dobbiamo parlare alle persone noi dobbiamo parlare questo è il dimatteismo dico sempre io è quello che dice nicola di matteo tra l'altro proveniente dall'esperienza del cammino e quindi conosce bene anche tutto questo tecnicamente vorrei anche dire noi dobbiamo parlare al cuore delle persone cioè essere persone che parlano alle persone e la nostra campagna l'ho sempre detto deve essere chiedere una croce sul nostro simbolo cioè chiedere l'atto che poi è concretamente l'espressione del voto a dieci persone al giorno ciascuna delle persone sta guardando stampa evangelo ripeto le prime due puntate 22.000 persone 22.000 pensate se queste 22.000 tutte avessero fatto semplicemente ieri il lavoro che abbiamo detto di fare parlare a dieci persone dare loro il simbolo del popolo della famiglia come simbolo dell'attività che noi stiamo compiendo indicando la croce sul nostro simbolo come richiesta questo è tutto ciò che noi crediamo semplicemente una croce sul nostro simbolo se tutti e 22.000 avessero fatto questo lavoro dicendolo a altri dieci e chiedendo a loro volta a quei dieci di farlo presso altre dieci persone noi avremmo già coperto praticamente il paese milioni di persone sarebbero venuti a conoscenza in un solo giorno dell'esistenza del popolo della famiglia stiamo facendo stampare milioni di cartoncini che vi arriveranno per fare questo lavoro piccoli biglietti da visita 8,5 per 5,5 con il simbolo del popolo della famiglia la data delle elezioni come si vota dietro una sintesi proprio ipersintesi del nostro programma e tutto da consegnare brevi manu parlando con le persone questa è la tecnica di campagna elettorale del popolo della famiglia non può essercene altra perché il volantinaggio semplice dandolo al passante casuale si perde nel nulla ci fa sprecare solo risorse che non abbiamo ricordiamo la pagina di vangelo di oggi siamo partiti come da ordini evangelici senza denaro nella borsa quel poco che potevo mettere personalmente l'ho messo a disposizione di tutti stanno arrivando i cartoncini in questo momento arriveranno anche dei bellissimi manifesti 100 140 per fare le affissioni nei vostri comuni qualche comune mi chiede cosa c'è da pagare per tutto questo niente non c'è da pagare niente lo faccio lo fa diciamo il centro nazionale del popolo della famiglia e fa arrivare tutto questo materiale in tutti i collegi italiani è un po costoso ve lo dico abbiamo d'altronde approvato un bilancio durante la nostra assemblea nazionale e quello che vi chiediamo magari è di fare un piccolo sforzo di far fare la tessera al partito è una goccia nel mare del bisogno ma almeno aiuta un pochino di fare l'abbonamento alla croce insomma sapete che c'è il nostro marketplace www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora lì potete fare sia le iscrizioni magari iscrizioni sostenitore così date un po d'aiuto o l'abbonamento alla croce abbonamento sostenitore per dare un po d'aiuto luca cipriani dice come è possibile fare risultato solo con il passaparola come è possibile intanto come è possibile come è possibile che abbiamo raggiunto 43.534 persone in pochissimi giorni che hanno addirittura firmato con i documenti alla mano le nostre liste pensate quelli sono già 43.534 persone che hanno messo quella firma ed è stato molto faticoso per loro mettere questa firma comparandole invece all'atto del votare per firmare bisognava stare in fila bisognava stare in fila magari al freddo bisognava portare il documento con sé stare lì un minuto e mezzo davanti al certificatore per mettere tutti i dati votare vanno a votare tutti devono semplicemente mettere una croce in un istante su un foglio di carta che viene dato sarà molto più semplice da 43.000 potremmo essere 4 milioni flippo chicorini quando arrivano i bigliettini e ragazzi abbiamo adesso completato le operazioni di consegna firme come sapete i bigliettini sono già dal tipografo ne stiamo stampando milioni milioni la vita vuol dire stampare milioni vuol dire tanti soldi vuol dire un po di tempo anche credo 48 ore e forse 24 riesco averli già a roma poi devono partire ovviamente ci saranno delle consegne espresse in tutta italia agli indirizzi che indicherete del delegato regionale quello a cui avete consegnato le liste il delegato regionale poi si occuperà di distribuire il materiale sui vari collegi territoriali quindi questo è il lavoro simone renzi dice certo una pettinata prima di andare in diretta magari era meglio scusa mario ma c'ho la peperonata sul fuoco e vabbè gli haters hanno la peperonata sul fuoco oggi mi sembrava pure dal punto di vista della capigliatura quasi adeguato diciamo però si vede che non è piaciuta al nostro amico mettere a disposizione i file se non costa nulla ovviamente metteremo a disposizione i file del cartoncino ma poi potete fare i vostri volantini sono dei volantini bellissimi ad esempio quello dei veronesi a quattro ante che va bene ne circolava un altro oggi dei bergamaschi io da questo punto di vista non ho difficoltà noi li approviamo ovviamente quando ce li fate vedere li approviamo quello veronese è già approvato da tempo è un bellissimo materiale che molti avete usato già e va benissimo quindi non c'è problema dovete solo aggiungere la dicitura committente il popolo della famiglia perché durante la campagna elettorale è necessario indicare il committente oltre alla tipografia dove li stampate quella però è un criterio di legge i tipografi lo sanno bene grazie a bernarda raucci che dice sei bellissimo così fai il paio con quello che dice che avevo i capelli in disordine allora dicevamo oggi stiamo facendo stampa e vangelo il vangelo abbiamo colto quant'è fondamentale e bello e ci ispira in maniera così forte andiamo alla stampa e allora anche la stampa però c'è delle notizie importanti apertura del quotidiano il messaggero il più importante quotidiano di roma 8 milioni o 18 milioni addirittura il numero di indecisi che non hanno ancora deciso per chi votare ed è un numero enorme ci fa capire quanto sia vasta in un mese la possibilità che abbiamo di intercettare consenso ripeto tra 8 e 18 milioni di italiani non sanno per chi votare sono indecisi aspettano una proposta e deve arrivare la proposta del popolo la famiglia tra le altre le altre proposte arriveranno anche tramite i media noi avremo la par condicio per avere un po di situazione mediatica ma soprattutto quella intensa coperta di relazioni umane che ho provato a descrivere prima che il vangelo di oggi ci indica come strada tra 8 e 18 milioni di indecisi arriva milani lena e dice uno in meno io ho deciso grazie elena spero che la tua decisione sia una croce sul simbolo del popolo della famiglia barbara dice manca la croce vicino all'angelo c'è l'ho c'è il crocifisso c'è l'ho lì in attacco qui a fianco sul muretto che mi guarda e mi protegge perché quando ho messo il crocifisso lì sotto l'angelo qualcuno ha detto non deve essere messo sotto l'angelo deve essere sopra allora per evitare le discussioni contestazioni voi sapete che verso questo povero diavolo c'è contestazione per ogni angolo di questioni che io faccio allora per evitare di avere le critiche insomma abbiamo fatto anche questo il crocifisso è qui il crocifisso di Medjugorje proprio qui lo posso toccare e accompagna la nostra diretta come sempre però l'angelo sapete che è l'icona di stampa e vangelo ringrazio Antonia Bassignana Mirco De Carli quanta gente sta facendo un lavoro enorme Lena Milani che da indecisa è diventata una votante del popolo della famiglia quindi esce dall'esercito degli indecisi andiamo a prendere uno per uno uno per uno andiamo a prendere uno per uno i nostri amici indecisi e andargli a convincere che la proposta più ragionevole è quella del popolo della famiglia perché perché lo spiegano i giornali di oggi perché questa legge elettorale il cosiddetto Rosatellum già lo sapete è una legge elettorale scritta per favorire l'inciucio qual è l'inciucio l'inciucio classico è quello che dal 2011 governa l'Italia al centrosinistra al governo con i voti decisivi del centrodestra ho già raccontato io da parlamentare di centrosinistra quando ero in Parlamento nel 2011 votavo tutti i provvedimenti insieme al centrodestra identicamente dal 2011 questa è la situazione di governo del paese sostanzialmente con qualche distingo e qualche macchietta ma di fatto è una condizione di questo genere quella che governa l'Italia Monica mi chiede sono iscritta all'aere non potrò votare pdf i residenti all'estero non potranno votare solo i residenti quelli che si credono residenti all'estero ma non hanno fatto l'iscrizione all'aere e quindi hanno ancora la residenza in Italia cosa puoi fare Monica puoi dare una mano a tutti gli amici che conosci in Italia mandando per esempio anche solo whatsapp il simbolo del popolo della famiglia in questo momento affinché lo conoscano e così possano votare per noi ninnarello ci conferma porta a porta ieri hanno fatto una puntata sugli inciuci è l'inciucio l'esito di queste elezioni allora dal 93 in poi negli ultimi 25 anni ascoltate bene ascoltate bene negli ultimi 25 anni sono cambiate molte leggi elettorali tutte le volte le leggi elettorali avevano un fine quando nel 93 venne scritto il cosiddetto mattarellum venne scritto da Sergio Mattarella oggi presidente della repubblica 25 anni fa per favorire l'affermazione della democrazia cristiana ormai morente nel 93 stava estinguendo si sarebbe nato il partito popolare fecero quell'incrocio di proporzionale maggioritario che era il mattarellum sproporzionato col 75 per cento di maggioritario perché così la DC si diceva avrebbe vinto i collegi su 600 collegi camera e senato ne vinse quattro quattro e quindi non andò molto bene a a chi scrisse la lettera quando si scrisse il porcellum vi ricordate Roberto Calderoli dice abbiamo fatto la porcata la porcata e da qui la definizione porcellum scrissero il porcellum per far vincere il centro destra vinse il centro sinistra perché perché gli italiani non sopportano che la legge elettorale lì costringa dentro uno schema allora lo schema della legge elettorale rosatellum è l'inciucio è scritta per far andare al governo il centro sinistra con il supporto dei voti del centro destra adesso c'è anche la nuova fantasiosa opzione quella di di maio che trovate oggi su tutti i giornali cioè l'idea del super inciucio movimento 5 stelle lega pd forza italia questa è la novità del giorno come dice leonardo de stefano anche i pentastellati che finora hanno gridato al lupo al lupo ora sono favorevolissimi agli inciuci e la agenzia reuters ieri ha dato questa notizia il super inciucio con di maio protagonista anche mentana l'ha spiegato bene sulla sette ieri dice sara silvestro è divertente poi la smentita di 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 maio che smentisce la reuters dicendo io a londra ho parlato ma non ho parlato di alleanze ho parlato di convergenze convergenze invece di alleanze avete capito che novità che differenza allora qual è la novità però che come ho detto sia nel 93 quando doveva vincere la dc cioè il partito popolare nei collegi le vinse solo 4 su 600 sia nel 2006 quando col porcellum doveva vincere il centro destra invece vince il centro sinistra il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi quindi di solito c'è sempre un elemento di sorpresa nelle elezioni tu fai la legge elettorale per fare l'inciucio l'inciucio deve avere protagonisti quei quattro partiti e non altri qual è la novità possibile che arrivi un partito che non si aspettano è questa la novità la novità è che uno possa inserire un elemento spurio e totalmente non aspettato dentro la questione di sistema come si fa votando popolo della famiglia non volete più il centro sinistra al governo votate popolo della famiglia volete smetterla con la stagione gli inciuci che generano inevitabilmente norme criminali sui cosiddetti nuovi diritti perché sul resto non sanno governare insieme è impossibile che anime così diverse trovino una sintesi sui temi fondamentali lavoro economia e allora fanno la legge sull'omofobia volete questo allora votate il centro destra votate le coalizioni normali se non volete questa stagione avete un solo voto a disposizione ed è il voto al popolo della famiglia per essere l'elemento di sorpresa che rompe lo schema scritto già dalla legge elettorale rosadello del inciucio centrodestra centrosinistra come inciucio di base eventualmente poi esteso persino a lega e movimento 5 stelle come declinato da di maio ieri a londra secondo l'agenzia reuters ripresa da tutti i giornali e allora dice bene orazio filippelli nostro candidato in calabria andranno in tilt col fattore popolo della famiglia è il fattore che fa andare in tilt il sistema lo dobbiamo spiegare fuori dai social network come dice federico pieroni e come recita oggi in uno splendido editoriale fatemelo suggerire giunfranco amato nell'editoriale di oggi della croce vi fa proprio un decalogo è l'editoriale della croce di oggi non perdetevelo è un decalogo con le dieci azioni da compiere per sostenere davvero il popolo la famiglia e portare al consenso abbonatevi alla croce www.lagrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora e leggetevi questo superbo editoriale decalogo di gianfranco amato il segretario nazionale del popolo la famiglia che tra l'altro diciamo punti principali uscite dai social andate fuori a parlare con le persone usate i social per avere le informazioni determinanti dal centro nazionale dal segretario dal presidente dal coordinatore nazionale da ciò che noi siamo come apparato diciamo così molto leggero peraltro di governo della popola famiglia a livello centrale ma poi fuori da qua fuori da qua tutti in strada in piazza due a due come dice il vangelo di oggi anche senza terari nella bisaccia andate a costruire relazioni umane con le persone almeno a dieci persone al giorno a dare il cartoncino del popolo della famiglia e a chiedere il voto al popolo della famiglia i nemici sono altri non è pillon dice angelo ma figura che dice che pillon è un nemico mai detto nessuno che stava sul palco e femmini day è un nemico sorrido semplicemente all'idea che pillon si ritrovi a fare il numero due di giulia buongiorno perché giulia buongiorno è uno che pillon lo vorrebbe in galera con la legge sull'omofobia allora io difendo simone e difendo tutti gli amici dicendo attenzione che vanno messo capolista una che inneggiava le leggi cirinà e vorrebbe la legge sull'omofobia la legge sull'omofobia della prossima legislatura si chiamerà buongiorno scalfarotto attenzione a dare sostegno a giulia buongiorno il sostegno si deve dare io lo credo è la ragione per cui è nato il popolo della famiglia al popolo della famiglia per evitare quel tipo di deriva si pianta così il chiodo nella coda del serpente sempre per citare un'immagine di gianfranco amato non c'è odio da questa parte non c'è neanche astio c'è simpatia gli abbiamo fatto gli auguri l'ho scritto io in un post io che sono considerato quello burbero quello cattivo faccio tutti di bocca al lupo possibile resta il fatto e mi auguro sinceramente che venga eletto perché comunque uno in più in parlamento è meglio ma non mi auguro le lezioni di giulia buongiorno ragazzi non me l'auguro mi spiace è qualcosa che lavorerà contro di noi lavorerà contro di noi lavorerà contro il nostro impianto valoriale aiuterà il centrodestra andare verso un altro orizzonte valoriale e questo è drammatico già si è verificato in questa legislatura non fate lo stesso errore anche nel 2018 avete già fatto nel 2013 portando in parlamento centinaia di parlamentari che poi non vi difendono sulle datte non vi difendono sul divorzio breve danno i voti per la legge cirina è questo che è successo nel 2013 non rifate lo stesso errore non votate in maniera cretina votate in maniera intelligente il voto intelligente è quello che rompe lo schema che capisce lo schema e rompe lo schema ed è il voto al popolo della famiglia ovviamente per noi ovviamente per noi militanti almeno questo lasciatecelo dire leggo di gente dice unità unità certo tutti uniti però la campagna elettorale è fatta per raccogliere consensi sul proprio simbolo non su quello avversario quindi inevitabilmente c'è un tasso di distinzione è un tasso comprensibile per chi fa campagna elettorale ma persino gli amici di centrodestra salvini e berlusconi si prendono a randellate ogni giorno perché perché essendo una legge elettorale di impianto proporzionale quello che conta è il voto al simbolo le coalizioni sono sostanzialmente inesistenti sono coalizioni patacca senza leader comune senza programma comune perché la legge elettorale li ha voluti così solo finalizzati andare a vincere i collegi unilominali ma senza un indice di comune accordo infatti si fanno la peggiore concorrenza all'interno dei contesti a sinistra renzi contro grasso e bersani a destra salvini contro contro la meloni e berlusconi ma è normale è l'impianto proporzionale della legge che costruisce queste condizioni ed è normale che in campagna elettorale anche il popolo della famiglia abbia diciamo così la libertà di dire perché bisogna votare per il popolo della famiglia e non per gli avversari questo è chiaro come vedete arriva antonio paradiso che è un sostenitore del 5 stelle viene qui e scrive viva 5 stelle quindi fa una campagna dove nel territorio nemico per dire non votate il popolo della famiglia votate 5 stelle questa è la campagna elettorale non facciamo le anime belle che si impressionano perché c'è un po' di distinzione quando è in questi 30 giorni evidente che lo schema prevede anche la ragione per cui si vota del popolo della famiglia e non si vota un'altra forza politica importantissimo ricordati i dati di oggi dei giornali di oggi indecisi fra 8 e 18 milioni una prateria dove andare a raccogliere consenso essere presenti sul territorio con la capacità di costruire relazione umana cioè conquistare il voto perché abbiamo fatto i cartoncini 8 e 5 per 5 e 5 a milionate perché quei cartoncini si mettono in tasca e possono durare fino al 4 marzo si mettono in borsa possono durare fino al 4 marzo sono un pro memoria voi alla fine della conversazione come quando lasciate il biglietto da visita se si lavora si lascia un biglietto da visita per avere i riferimenti quel nostro biglietto da visita 8 e 5 per 5 e 5 è un pro memoria che lasciamo a ognuno di quelli che incontreremo costruendo relazione umana barbara cavallini dice la cosa giusta sono personalmente stufa di essere presa in giro sono felice e voterò popolo della famiglia questa è la cosa più bella sono felice e voterò popolo della famiglia andremo a votare con il sorriso noi non votiamo il meno peggio quello ambiguo ma tutto sommato ci porta in parlamento quindi votiamo no noi votiamo magari non ci arriviamo magari non lo facciamo questo 3 per cento ma centinaia di migliaia di persone cominceranno una strada perché il popolo della famiglia comunque durerà comunque durerà anche dopo il 4 marzo questo è solo il passo di inizio di un percorso e centinaia di migliaia di persone sosterranno questo passo d'inizio se arriveremo a un milione saremo già con decine di parlamentari a fare il lavoro giusto per salvare il paese dalla deriva infernale a cui il relativismo etico lo sta condannando questo è ciò che noi dobbiamo fare sapendo sapendo che il percorso è ovviamente lungo e complesso che ci sono gli avversari come quando si gioca in campo dice ah non abbiamo fatto una grande partita oppure abbiamo fatto una grande partita ma non abbiamo vinto signori esistono gli avversari quindi bisogna sapere che non è che vinciamo siamo solo noi sulla scheda elettorale sono una ventina di liste bisogna riuscire a spiegare perché tra tutte quelle venti liste devono scegliere noi questo è il lavoro che stiamo facendo e dobbiamo fare nei prossimi 30 giorni però se l'onora gli osposti dice sarà una festa andare a votare ma oltre a essere una festa andare a votare deve essere una festa in questi 30 giorni convincere le persone andare a votare per noi e dire a loro che devono convincere altre persone andare a votare per noi questa è la nostra forza questo è il nostro progetto che durerà nel tempo come dice danielo bassan poi mi piace l'entusiasmo di elenora pagano che è sicura che ce la faremo e quindi la sua felpa con sopra scritto capiamo moriamo bellissima la maglietta più bella che abbia visto nel mio infinito giro d'italia che ha fatto quasi 700 tappe quindi elenora è veramente un premio importante sta nel mio cuore quella straordinaria maglietta verde con scritto o capiamo o moriamo allora io vi ringrazio molto per l'attenzione che date oggi un mi piace vi chiedo alla diretta un condividi sulla vostra pagina perché queste notizie siano chiare a tutti io lo ripeto le notizie fondamentali intanto il meraviglioso vangelo che ci dice oggi andare due a due a incontrare le persone anche senza denari nella bisaccia per costruire redazione umana ci illumina sempre la pagina di vangelo ricordarsi il dato del messaggero prima pagina fino a 18 milioni sono i cittadini italiani che ancora oggi sono indecisi sul voto alle prossime elezioni il rosatellum che è legge scritta per costruire l'inciucio lo trovate su tutti i giornali oggi teorizzato l'inciucio con il nucleo prevalente cento destra cento sinistra addirittura nello schema di di maio annunciato a londra con l'aggiunta di di pentastellati e lega questo tipo di lavoro è un lavoro che va fatto spiegando dunque che il rosatellum ha questo tipo di esito e che non avrà questo esito cioè il cento sinistra non andrà di nuovo al governo come governa di fatto dal 2011 solo se interverrà un elemento disturbante lo schema che frantuba lo schema e questo elemento si chiama popolo della famiglia non ce ne sono altre di opzioni possibili solo questa è l'opzione che rompe lo schema dell'inciucio che fa schifo a ragione raffaella greco si fa così luca cipiani dice dove si legge l'elenco dei candidati nei collegi deve essere ufficializzato dalle corti d'appello sapete che addirittura il mirago di nostro signore alta notizia dei giornali di oggi sono saltati 17 collegi del cento destra 17 sono tantissimi e io ho detto sicuramente tutti quelli che dovevano votare cento destra voteranno popolo della famiglia ci hanno fatto una testa così che non ci votavano e se fossimo stati in coalizione ci avrebbero votato ora nei collegi dove il cento destra non c'è il voto al popolo della famiglia automatico abbiamo già 17 eletti voglio pensare tra l'altro sono tutti in lombardia quindi lì c'è una bella presenza diciamo sia del popolo della famiglia sia degli avversari il signore ci sta regalando dei miracoli uno dopo l'altro pensate che hanno avuto 17 collegi ricusati noi uno solo nel piccolo collegio del molise dove tutti insieme adesso andremo in corte di castazione loro con i loro 17 collegi lombardi e sono pesantissimi c'è un'intervista oggi a Maurizio Lupi sul Corriere della Sera che dice oh ma è la lombardia mica il molise ecco appunto il molise invece ce l'abbiamo avuto noi ricusato per un errore di forma veramente insensato abbiamo una marea di firme abbiamo tutti i anniari apposto il molise però è molto piccolo e il castazionista risiedeva a tre chilometri dal confine molisano in Abruzzo quindi abbiamo avuto questo questo piccolo incidente però andremo in castazione insieme agli amici della corazzata di centrodestra che devono sanare 17 posizioni noi dobbiamo sanare una e speriamo davvero di vedere una castazione che capisce che no davanti ai professionisti della politica al centrodestra che sbagliano in maniera marchiana noi addirittura il problema è che il castazionista che firmava era a tre chilometri dal confine insomma mi sembra veramente un dettaglio insopportabile andremo insomma comunque in castazione insieme a loro loro devono salare 17 posizioni e noi una non so neanche cosa augurarmi mi starei quasi per augurare di essere cassato noi molise e loro in lombardia perché lì comincerebbe una battaglia tutta nuova a quel punto sui 17 collegi mancanti perché veramente bisognerebbe allora chiedere il voto al popolo della famiglia perché tutti hanno detto che se fossimo stati equalizzati avrebbero votato per noi quindi in assenza del popolo della famiglia ci sarebbe credo davvero il voto in assenza del centrodestra ci sarebbe il voto al popolo della famiglia raffaele scornamacca dice chiudi sta diretta che devo prendere i voti per il pdf in parlamento al senato mi pare giusto la chiudiamo tra pochissimo caro raffaele agnese mascellari dice andiamo in giro senza bisaccia dice senza denari nella bisaccia non senza bisaccia ma con i bigliettini del popolo della famiglia giustissimo agnese c'è mattia sala del pdf di brescia rita madonna chiede se il collegio di caserta ha passato il vaglio della corte d'appello si abbiamo passato il vaglio in tutte le corti d'appello questo posso darvelo come notizia l'unica riusazione l'abbiamo avuta in molise con il molise andiamo in corte di cassazione fra 48 ore don damiano cavallaro ci dice la dedizione ideale dei militanti del popolo della famiglia è unica nella storia della politica italiana almeno negli ultimi 40 anni avanti nel signore grazie don damiano cavallaro prezioso aiuto di anche spirituale lo voglio dire insieme a don salvatore vidiello devo citare tanti sacerdoti dottorino baronio con cui ci vediamo domani a cremona a proposito a proposito stavo dimenticando domani apro la campagna elettorale ufficialmente perché la campagna elettorale apre ufficialmente il 2 apro ufficialmente al teatro non mi ricordo come si chiama ma importante teatro di cremona domani alle ore 21 domani alle ore 21 chiunque si trovi in zona per favore convergete su cremona perché facciamo l'apertura della campagna elettorale e sarà qualcosa vi annuncio da subito che farà esplodere cremona e credo oltre a esplodere cremona anche l'italia intera partiamo da cremona partiamo dal territorio lombardo sono stato in anteprima alla a pinerolo in territorio piumentese voi sapete sono stato negli scorsi giorni in abruzzo nelle marche sono stato in veneto sono stato in emilia romagna ovviamente a roma e nel lazio per la raccolta firme sono stato in toscana sono stato il 9 sarò in umbria e dunque cercheremo di coprire tutto il territorio nazionale davvero fatemi salutare anche don colamonaco giusto annarusso un altro prezioso aiuto quanti sacerdoti ci stanno aiutando anche solo con la preghiera e fatemi salutare il gruppo preghiera di sabino sabini e di marco fasulo gruppo preghiera popolo della famiglia io vi ringrazio tutti cari amici andiamo a fare questo lavoro allora adesso in giro per l'italia subito fuori fuori dai social come dice eh Gianfranco Amato abbonatevi alla croce iscrivetevi al popolo della famiglia fate l'iscrizione sostenitore noi in cambio inonderemo di milioni di volantini e manifesti il paese con il nostro simbolo facciamo diventare tutto questo una battaglia davvero 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 di popolo facciamo un lavoro straordinario per far sì che il rosatellum degli inciuci venga fatto saltare da un popolo in cammino lo possiamo davvero fare è dentro la nostra disponibilità fate vedere questa diretta a tutti i vostri amici a tutti i vostri fratelli agli indecisi a quegli indecisi che sono tra 8 e 18 milioni lo ripeto apertura del quotidiano il messaggero di oggi dunque un enorme popolo che va incontrato va semplicemente incontrato con convinzione con fede con determinazione Flaminia Longobardi ringrazia Don Francesco Don Damiano fatemi ringraziare anche Don Roberto e amici di Flaminia e Chiuscia Longobardi quanti sacerdoti dovrei citare davvero straordinari quanti conventi quante sorelle quante religiose è davvero un percorso straordinario quello che stiamo facendo e facciamolo con sempre maggiore io lo dico sempre fede e anche capacità di ringraziamento io quando alla sera prego alla fine di ogni sera e poi in realtà è notte 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 fonda io non faccio mai io nella mia preghiera notturna ringrazio e basta perché è davvero solo qualcosa di enormemente gratificante quello che stiamo facendo e dunque merita solo una preghiera di ringraziamento al Signore te deum laudamus davvero per quello che ci è donato tutto questo ci è donato non è nostro l'ho scritto in una chat polemica in cui si attaccava decisamente ad inolfi come al solito ho scritto in quella chat fate bene prendetevela con me uccidetemi con le vostre accuse non c'è problema sono pronte a fare il parafulmino una sola cosa vi chiedo guardate il popolo della famiglia guardate il popolo della famiglia come miracolo e ricordate che l'artefice del popolo della famiglia si scrive con la maiuscola l'artefice del popolo della famiglia si scrive con la maiuscola non è maria di nolfi si scrive con la maiuscola quindi davvero come dice gianna russo grazie a dio noi facciamo gli strumenti facciamo gli strumenti tutto questo se poi come strumento bisogna essere anche esposti all'attacco costante dei fratelli dei cristiani che ci spiegano come fare bene la battuta di petto a messa e poi però invece ti insultano costantemente sui social beh insomma questo qualifica loro e noi cerchiamo di non essere qualificati per questo insomma quindi penso che questo ci sarà riconosciuto almeno un po di bonomia e di simpatia che c'era uno che mi voleva prendere la sberle addirittura io ho detto guarda io trovo anche simpatico che tu voglia prendermi la sberle che probabilmente con un dito solo ti farei volare però se tu vuoi venirmi a prendere la sberle apprezzo diciamo così la virilità maschia e fascista di un proposito del genere però ricordati sempre che con un dito ti farei volare va bene grazie davvero uscite dalle chat uscite da sti gironi infernali come dice mauro chialastri andiamo lontano dalle polemiche andiamo a fare il nostro lavoro di militanti del popolo famiglia due a due come recita il vangelo di oggi e facciamolo con determinazione con chiarezza con la capacità di essere anche sorridenti auto ironici perché fratto dio ha uno straordinario senso dell'umorismo se si servirà di noi per cambiare le sorti alla storia del paese forse non solo il paese ha davvero uno straordinario senso dell'umorismo a far luce attraverso le lampadine fulminate che noi siamo insomma quindi davvero davvero un abbraccio a tutti andate a fare questo lavoro però adesso non a chiacchiere ma per davvero incontrando ognuno dieci persone consegnando a loro il nostro simbolo spiegando che si vota con una sola croce non c'è possibilità di scrivere due tre voto quelle voto quell'altro no c'è la scelta da fare su un solo simbolo con una sola croce è un solo simbolo con una sola croce è una croce per il popolo della famiglia consegnate questo mandato a dieci persone ogni giorno e dite a loro di consegnarlo ad altre dieci se dovessimo fare questo sicuramente riusciremo a ottenere il risultato che ci siamo prefissi allora da maria di nolfi una buona giornata a tutti voi noi ci ritroviamo per la diretta di stampa evangelo domattina spero di non essere stato troppo noioso fate un mi piace vi chiedo la diretta condividete la diretta sul vostro profilo invitate le persone a seguire la diretta fatemi salutare anche angela ciconte il nostro generale in calabria prisca vegni claudia scimain brignoli sabbino sabbini eccolo qui ho appena ricordato il gruppo preghiera del popolo della famiglia luca campisi monica consigliere che mi dice riposati dopo il 4 marzo se ci arrivo vivo giuro che non mi trovate più per sette giorni dormo per sette giorni consecutivi per ora rispondo ai vostri messaggi come sapete anche alle 3 del mattino alle 5 del mattino perché alla fine avete la buona creanza di scrivermi a ogni ora del giorno e sapete che più o meno in pochi minuti arriverà una risposta perché cerco di dare davvero una mano concreta ai dubbi di ciascuno saluto massimiliano fiorin carla baricchi che dice che diffondiamo notizie false perché lei del 5 stelle vabbè insomma ha detto convergenze ma non alleanze vabbè salutiamo comunque i militanti di tutti i movimenti politici perché è giusto che durante la militanza si faccia militanza e quindi si vada anche a disturbare le dirette altrui romana cordova preziosa amica insieme a emiliano fumaneri che oggi scrive un articolo meraviglioso sul quotidiano la croce non perdetevi emiliano fumaneri sulla rosa coalizione l'hanno chiamata così la grosse coalizione si chiama in germania invece rosa coalizione l'ha chiamata da emiliano fumaneri in italia leggetevi che capolavoro di intellettuali ci sono sul quotidiano la croce da gianfranco amato ad emiliano fumaneri oggi c'è giuseppe brienza che parla di samuel storm di un cantante che è uscito da x factor perché noi riusciamo a tenere insieme alto e basso diciamo così perché è il livello della nostra riflessione che proviamo a fare quotidianamente su un giornale oltre a tutto il resto noi facciamo anche un giornale da otto pagine tutti i giorni pensatelo sempre che facciamo anche questo grazie a giovanni marco tuglio a tutti gli amici che scrivono per il quotidiano la croce e devo dire con un livello di intensità che in questo periodo non si è mai letto quindi se potete dare una mano a questo quotidiano saluto barbara moi giovanni folino beatrice gragnato che chiede i cartoncini sono in stampa sono in tipografia un po di pazienza sono milioni saluto letizia disidoro saluto rossano giorello grandissimo nostro leader a pinerolo per l'avvio della pre campagna elettorale domani ci vediamo a cremona ore 21 comincia davvero la campagna elettorale del popolo della famiglia si comincia in terra lombarda comincia in una città che c'è cara dove ci sono anche sacerdoti che ci aiutano io vi abbraccio saluto anche tiziana del fini che dice stai sereno e ritirati a vita privata se dio volesse quanto lo farei volentieri e magari accadrà è molto rapidamente vedremo tiziana vedremo saluto silvia lodalo detto giuseppe merulla dudu di leo tutti gli amici che hanno seguito marzial il mio carissimo amico marzial muster il marticiano un abbraccio forte maria pia di girolamo vincenzo abbate tutti voi un abbraccio ci vediamo domani a stampa e vangelo sempre qui sempre sul popolo della famiglia tv buona giornata a tutto il popolo della famiglia ora in battaglia a noi la battaglia e addio la vittoria